Per il quarto di finale del Memorial Nardino Previdi, in campo Roma e Cesena, Roma che si schiera con Fonte Buoni, Testa e Midos, Carni e Lutti, Castrati, Petruccelli, Cappa, Frattesi, Montella, Spirito e Brignola. Risponde il Cesena con Sarini, Crescenzi e Setola, Felli, Salcuni, Farabecoli, Maretti, Ametai, Tamagnini, Urso e Andreoli. Gara da dentro fuori per entrambe le formazioni, due tempi da 30 minuti per decidere chi arriverà alla semifinale del torneo dove affronterà il Torino già vincente. Parte bene da Roma con sulla sinistra Brignola il tiro con il pallone che termina al lato della porta difesa da Sarini. Ancora Roma pericolosa, qualche istante più tardi il pallone arriva al centro, il tentativo di Frattesi, la deviazione di Montella che non trova la porta. Ancora Roma a fare la partita qui, il tiro dalla distanza da parte di Petruccelli, nessun problema per Sarini. C'è però allora il Cesena su calcio e punizione con Urso, palla centrale, blocca Fonte Buoni. Ancora Urso, il calcio piazzato, il pallone al centro, arriva Salcuni, il tocco e poi la deviazione sotto misura da parte di un difensore della Roma che evita il peggio. Risultato ancora di 0-0, sale di tono il Cesena, palla al centro, per Andreoli il tentativo di tacco e la parata ancora di Fonte Buoni. Nel finale del primo tempo si riporta in avanti la Roma qui con Montella che prova il guizzo a centro area, il pallone poi deviato in corner. Con le immagini andiamo alla ripresa, Cesena che parte subito in avanti, qui occasione per Tamagnini che si scontra con un compagno. Poi il pallone, dopo un batti e ribatti, arriva al numero 15, Rossi, il pallone alto sopra la traversa. Alla minuto numero 16 del secondo tempo arriva il gol del vantaggio, Gialorosso lo mette a segno sui sviluppi di un corner Brignola che di testa trova il tempo giusto per battere Sarini e portare così la Roma in vantaggio sul risultato di 1-0. Il Cesena attacca, la Roma può cercare di colpire in contropiede qui l'occasione per il numero 17, Gialorosso Amadio, con la deviazione da parte dell'estremo difensore del Cesena che salva tutto. Ancora Roma pericolosa, qualche istante più tardi al 28esimo arriva il calcio di rigore decretato. Dal direttore di gara per l'atterramento di un giocatore giallorosso in area, dal dischetto si presenta K, palla all'angolino, non può nulla Sarini, gol del 2-0 della Roma. Nel finale la formazione giallorossa potrebbe rendere ancora più pesante il passivo. Il pallone infatti arriva Brignola che in area di rigore salta un avversario, poi tenta il tiro, si salva Sarini. Su questa azione arriva anche il triplice fischio del direttore di gara, Roma batte Cesena 2-0 e Roma che vola in semifinale del Memorial Nardino Previdi.